Il conduttore Jimmy Kimmel apre la novantesima edizione degli Oscar Sam Rockwell è il miglior attore non protagonista per tre manifesti a Ebbing, Missuri, Lucy Sibik, Kazuhiro Tsuji e David Malinovski vincono l'Oscar al miglior trucco e acconciature per l'ora più buia, Mark Bridges vince la statuetta per i migliori costumi, il filo nascosto, Mary Lunga Blige si esibisce sul palco del Dolby Theater David Fiolkow, Dan Cogan, James R. Swartz e Brian Fogel con l'Oscar al miglior documentario, Icarus, Alex Gibson e Robert King vincono per il miglior montaggio sonoro, Dan Turk Rita Moreno presenta l'Oscar al miglior film straniero Il Cileno, A Fantastic Woman è il miglior film straniero dell'anno, Coco è il miglior film d'animazione dell'anno Daniela Vega è la prima presentatrice trans nella storia degli Oscar, Gael Garcia Bernal si esibisce sul palco degli Oscar Kobe Bryant ritira l'Oscar al miglior corto d'animazione, Dear Basketball, Sufjan Stevens canta set The Mystery of Love tratto dalla colonna sonora di Chiamami col tuo nome, Matthew McConaughey consegna Lee Smith l'Oscar al miglior montaggio vinto per Dan Turk Un gruppo di star in sala va a fare visita al pubblico di un cinema canto Common e Andra Day ricevano la standing ovation dopo aver cantato Stand Up For Something, James Ivory vince la statuetta per la migliore sceneggiatura adattata per Chiamami col tuo nome Jordan Peele vince l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale per Get Out, Remember Me, è la miglior canzone dell'anno Alexandre Desplet con l'Oscar alla miglior colonna sonora vinto per La Forma dell'Acqua Eddie Vedder canta durante il segmento In Memoriam, Guillermo del Toro vince l'Oscar alla miglior regia per La Forma dell'Acqua Gary Oldman è il migliore attore protagonista per L'Ora Più Buia Frances M.C. Dormand è la migliore attrice protagonista per tre manifesti a Ebbing, Missouri, Camilla Alves e Matthew McConaughey, Lupita Nyong o Meryl Streep, Octavia Spencer e Sally Hawkins e Emily Blunt Jimmy Kimmel inaugura la cerimonia degli Oscar 2018 con un omaggio tutto particolare alla celebre statuetta, rompendo subito gli indugi sul tema delle molestie a Hollywood Parlando di donne, parità e diversità si chiude con la bella vittoria di James Ivory per la migliore sceneggiatura non originale, l'avventura di Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 Il film del regista italiano Luca Guadagnino era candidato in quattro categorie Miglior film, migliore attore protagonista, miglior canzone e migliore sceneggiatura adattata, appunto, ma era questa la più attesa e probabile Tra i momenti più toccanti dell'intera cerimonia, quello in cui l'anziano Ivory 90 anni come l'Academy a giugno prossimo ha ritirato il suo primo Oscar per l'adattamento del romanzo di Andrea Cimen, in cui si racconta di un amore omosessuale nell'Italia del 1983 Top Stories, che siamo omo-eterosessuali tutti siamo passati attraverso l'esperienza del primo amore, ha dichiarato Ivory poggiando a terra la statuetta e leggendo il ringraziamento retto al suo bastone Ringrazio Luca Guadagnino per la sua sensibilità di regista Con questo premio, fatta eccezione per quelli alla carriera, lo sceneggiatore e regista americano è diventato il vincitore più anziano della storia degli Oscar Chrome Social